C'ha un cuoricino che, come Maria, solo in nome ti può ingannare, ma poi è così grande che alla fine ha fatto sempre di più innamorare. Quando lei è venuta in Honduras, io stavo aspettando che qualcuno mi eliminasse perché non ce la facevo più. Poi è stata una magia e ho capito che dovevo continuare il mio percorso. Con gli insegnamenti di Ghezzal che mi ha insegnato a farmi le cose da me, oggi io porto il suo costume perché gli avevo promesso che almeno uno dei due avrebbe finito la corsa, ho iniziato a fare una cosa che io non so mettere manco un chiodo a casa, non so pescare, infatti ve ne siete accorti. E ho iniziato a fare questa cosa e credo che mi è venuta bene. Io e lei non ci siamo mai veramente sposati perché quando era il momento varie cose non siamo mai riusciti a farle. Quest'anno facciamo dieci anni di fidanzamento. Io sarei felice quel giorno, il 14 luglio, finalmente di far vedere i suoi genitori lei in ambito bianco. No, è qualcosa a questo. Grazie. 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 Grazie a tutti.